...cultura con un importante fondo ufficialmente presentato alla Biblioteca La Vigna. Il fondo librario Livio Cerini di Castagnate entra ufficialmente a far parte del patrimonio della Biblioteca Internazionale La Vigna. Con questa acquisizione, ha spiegato il presidente Mario Bagnara, La Vigna si consolida come una delle più importanti biblioteche d'Europa nel settore enogastronomico, dando lustro e prestigio a tutta la cultura del Veneto. Bagnara non ha mancato di ringraziare la Fondazione Monte di Pietà e il suo presidente Mario Nicoli per il finanziamento che ha permesso di acquisire il fondo Cerini, che si compone di 1.400 volumi databili dagli inizi del Cinquecento fino al Novecento, tutti di enogastronomia e culinaria. Del resto, come hanno ricordato Giovanni Ballarini, presidente dell'Accademia Italiana della Cucina, e Danilo Gasparini, storico dell'alimentazione, il visconte Livio Cerini di Castellanza, grande scrittore e definito il Galileo Galilei della Cucina, tra le sue opere più importanti il Libro del Baccalà e il Cuoco Gentiluomo. Fra le più rare opere del fondo, ora acquisito dalla Vigna, il Ricettario del Galieno, del 1512 volume, posseduto da sole quattro biblioteche in Italia. Così, come molto rara, è l'edizione del Banchetto dei Speri.